Credo che Tommaso Pellegrino sarà un ottimo presidente per il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Come componente della Commissione Ambiente della Camera, sarò lieto di dare un parere positivo alla richiesta del Ministro Galletti per procedere alla nomina di Pellegrino. In questo modo, il deputato campano del Partito Democratico, Simone Valiante, chiarisce la sua posizione rispetto alla nomina del Sindaco di Sassano a Presidente dell'Enteparco e lo fa nel momento in cui il Ministro Galletti ha deciso di mandare in Commissione Ambiente della Camera il nome di Pellegrino per l'approvazione definitiva. Tommaso, afferma Valiante, ha un curriculum e un'esperienza che lo rendono idoneo a guidare l'Enteparco del Cilento, un territorio ricco di risorsi e opportunità di sviluppo che merita attenzione costante da parte degli amministratori locali e dei decisori politici nazionali. In questo modo si rinsaldano i rapporti tra i due che, un po' di tempo fa, rischiarono di logorarsi proprio nel momento in cui la Regione era alle prese con l'indicazione del candidato per l'importante incarico. La designazione di Pellegrino da parte del Ministro non è ancora arrivata in Commissione, ma è stata annunciata, precisa il Presidente della Commissione Ambiente, Tino Iannuzzi. Credo che questo passaggio comunque avverrà la prossima settimana. Immediatamente dopo l'argomento sarà portato all'ordine della seduta della Commissione, che nel giro di poche settimane dovrà stabilire se Pellegrino ha i requisiti per assumere la guida dell'Enteparco e credo che non ci saranno difficoltà. Una volta che la Commissione si sarà espressa positivamente, Galletti potrà firmare il decreto di nomina. Da quel momento in poi, Tommaso Pellegrino avrà tutte le carte in regola per inseghiarsi alla Presidenza dell'Enteparco. Intanto il Ministro è ancora alla ricerca di un Presidente per il Parco della Sila. A tutt'oggi manca un nome da condividere con il Presidente della Regione Calabria.